buongiorno a tutti e ben ritrovati finalmente di nuovo in ufficio in italia oggi sabato 3 settembre e ritorniamo a parlare di nasdaq visto che è un mercato che vi piace molto e molto seguito il video sono molto seguiti i video su nasdaq per cui facciamo anche in questo caso il punto della situazione e vediamo che cosa avevo detto nel precedente video eccoci qua Perfetto, che cosa è successo? Come d'attese siamo scesi e siamo persino arrivati a 12.012, quindi target raggiunto sia in termini di prezzi che in termini di tempo, grazie a un unico metodo, l'Evoluta, un metodo statistico-matematico non discrezionale. Noi non sappiamo se questa candela la si vuole attribuire a peggioramento nell'inflazione, tassi, a noi non interessa, a noi interessa fare trade profittevoli e quindi indichiamo sia target a livello di prezzo, come detto, che a livello di tempo. L'abbiamo raggiunto nel tempo corretto? Questo target? E come? L'abbiamo raggiunto grazie a una durata di 6 giorni che è il terzo settimanale che diventa peraltro ribassista e che è finito? Qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la sua fine. Da qui però può essere ancora in essere o può essere partito un nuovo settimanale? Vi do già subito la risposta, anche in questo caso mi sento di donare anche a chi non fa parte del gruppo premium. Da qui abbiamo superato lo swing per la partenza di un nuovo T settimanale che sta diventando pericolosamente neutro. Dopo la seconda candela, qui era dopo la terza candela che siamo andati in violazione del minimo e ci siamo vincolati. Abbiamo potuto continuare a seguire il trade per quanto tempo? 1, 2, 3. Con la violazione siamo entrati. 4, 5, 6, minimo 6 candele e il giorno dopo, il settimo, abbiamo avuto il minimo assoluto. Quindi, perfetto. Semplicemente perfetto. A questo punto manca ancora un elemento. Anzi, mancano ancora vari elementi. Primo, questo T2 mensile più T2 mensile. Può essersi chiuso a 52 giorni? Sì, siamo oltre la durata minima a 48. C'è la condizione necessaria e sufficiente per la sua chiusura? Sì. Ma, come detto, se da qui è partito un nuovo settimanale e se torneremo, purtroppo, prima dei 6 giorni sotto i 12.012 noi continueremo a scendere per tutta la durata, anche soltanto minima, di 6 giorni complessivi a partire dal 1 di settembre a scendere e a cercare nuovi minimi. L'area, questa volta, è attorno agli 11.5. Comprendete che a noi le notizie che magari arrivano dopo e che giustificano i movimenti non interessano. È ancora più chiara, perché su questo canale trovate ovunque esempi di questo tipo e ovunque anche esempi contrari, che arrivano notizie che dovrebbero essere positive ma si scende. E quindi, ITG, sentite frasi tipo è, però, il mercato impermeabile a certe notizie. E quindi a che cosa servono le notizie per fare trading? Read my lips. Ok, cosa facciamo quindi? Andiamo ad aggiungere l'ultimo tassello. Sappiamo che da qui è partito ormai, confermato, come detto nella scorsa analisi, un nuovo annuale. Lo sappiamo per la violazione dello swing e per il tempo, ma abbiamo superato la durata minima di 48 giorni e quindi abbiamo un T più 3 che ci dice che abbiamo un annuale che non gode di buona salute in questo momento e poi può recuperare tutta la buona salute che vuole, ma in questo momento siamo ritornati a testare 1.061 di Fibonacci e sembra che continuiamo a essere attirati verso il basso e quindi verso gli 11.611 punti. Questo sarebbe il target successivo a quello che abbiamo fatto, se verrà violato appunto il minimo a 12.012. A questo punto il discorso è 1. Manca un tassello, il tassello è l'inverso. Qui abbiamo avuto il primo settimanale inverso, T inverso sarebbe, ok, 7 giorni. Secondo T inverso manca una chiusura. Perché manca una chiusura e quindi un top, un baffo all'insù? Manca perché non si chiude con una candela rossa e noi siamo a 6 candele minime e quindi non possiamo aver chiuso con questa rossa. Ce ne serve una verde che tra l'altro non chiude soltanto il secondo settimanale inverso ma anche tutto il T più 1 inverso e quindi ci serve un qualche cosa di questo tipo che poi se vuole ci riporti sotto. Questa sostanzialmente è l'aspettativa. Tra l'altro il baffo in salita può farlo con tutto il tempo del mondo perché un T inverso dura anche 11 giorni quindi può ritornare a scendere sotto il minimo che è la previsione principale e poi risalire soltanto alla fine per far partire anche soltanto un secondo T-1 lato indice e chiudere al contempo il b settimanale di inverso. Le notizie non sono buone, me ne rendo conto ma a meno che non stia provando a fare un raccordo che però bisognerebbe andare a vedere tra che cosa e che cosa perché i raccordi hanno delle tempistiche di un certo tipo il rischio è che si continui a scendere e la previsione precedente era corretta. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché nonostante abbia ancora da mettere a posto parte della valigia finalmente torno sui miei grafici, non vedevo l'ora anche le vacanze sono terminate e mi fa piacere che siano terminate perché c'è bisogno anche di ritornare a casa e di ritornare alla propria quotidianità che è sempre molto varia. Buona giornata a tutti, arrivederci!